Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video Oggi faremo uno scherzetto bellissimo, anzi, bruttissimo a Marco Cioè, nascondiamo tutte le sue cose pregiate, ok? E faremo finta che sono entrati i ladri in casa Adesso Marco, ecco, è andato a prendere Luca a scuola E quindi adesso preparo tutto Oddio, sto staccando dei cavi che non so se devo staccare Proffamente, si arrangerà lui Attenta Stacco, oddio, tic Ok, questo lo nascondiamo qui sotto Ti aiuto? Oddio, oddio Tac, dobbiamo veramente far sì che sono entrati i ladri Regali Regali, ecco i regali che la giocista Dobbiamo rimascono, Teresa Così Teresa Così, ok Così ti stai tirando i vicini anche Fai niente, fai niente Buttiamo giù un po' di scarpe Un po' questo qua Questo qua La 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 Tiriamo giù un po' di tutto La borsa di qua Io butto giù questo Sì sì, le palline Ok, perfetto Poi cosa possiamo fare? Cuscini Cuscini in giro Eh, eh Sono entrati i ladri Il mio portafoglio per terra Togliamo i soldi che sono dentro Mettili Di lì Sotto Tutto per terra Scondrina, ok Mettili i soldi Io piangerò come una disperata Sono entrati i ladri Tutto pronto ragazzi Per lo scherzo Te le camera di qua Te le camera di là Te le camera di su Te le camera di giù E siamo a posto Possiamo partire Ciao E su chiamiamo Marco ragazzi Chiamiamo Marco Bibi Amore Amore Ti senti? Sì ti sento Aspetta un attimo che metto l'evovoce Amore 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 Ascolta Sono entrati i ladri In casa Cosa? Sono entrati i ladri in casa Ma come stai tu? Oh Sì Sto venendo Sto venendo a casa La Lisa La Lisa Qua sto bene Qui tranquilla Muoviti Ti prego Sto arrivando Ok Sto arrivando amore Ok ok Caspita Stai calma che sono qua vicino Va bene Ciao Sì ciao 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 Ragazzi Ci ho boccato Adesso nascondo la telecamera Un attimo Andrati i ladri in casa Lo sapevo Lo sapevo che prima o poi succedeva Lo sapevo Lo sapevo Mia santa Il computer E' importante che lo stiamo bene 10 minuti 10 minuti 10 minuti La Lisa E' chissà che trauma che era fatto Ma non so Ma come ha fatto entrare dal balcone Eh per forza Ma da che casino di sabato Cioè Tutti oggi Rosso L'incidente Qua che gira Parcheggiamo qua Vabbè C'è la porta aperta Guardala Parcheggiamo qua Parcheggiamo qua Ma sono entrati in casa Ma lì Non sta bene Dai Era mamma di là in camera Era mamma di là in camera E ho sentito Un casino allucinante Non so cosa cavolo è successo Ma voi state bene Sì sì Ma io sono qua tutto spaventato Veramente Non so cosa Te l'ho rubato il computer Grazie Te l'ho rubato il computer E mi ha portato la cassaforte Anche No C'è niente La cassaforte Non c'è niente No Fortunatamente no Però Non c'è più il computer Amore Cosa facciamo adesso Come ha portato la cassaforte Non lo so Non lo so E l'ho trovato le chiavi Non lo so Guarda Non lo so niente Non so niente Dove chiamare la polizia E fare qualcosa Si confiude C'è la mia vita La mia vita c'è Stavamo giocando di là in casa La camera E non so Ha sentito sto casino Non so che cosa è successo Si è entrato dal balcone Dai su Gli si manca Dalla porta Perché La porta è rimasta aperta La porta Sono usciti dalla porta Ma lo so Non so Non so niente Poi mi hanno rubato anche i soldi Che avevano nel portafoglio Eh beh Ma è normale Cosa Il cassaforte Non ho rubato niente Perché non ci sono solo documenti Il portafoglio Il computer Ah mamma mi hanno lasciato questo Mi hanno lasciato questo Piracolo Altisca Il backup Staventato Lasciate tutto con me Anzi Luca filma Ok Ok Sì Qui Si a posto te Dai eh Ma li avete visti Ma li avete visti No Filma tutto Luca Non ho visto niente Niente di niente Ho visto Luca ma non filma Filma le cose Che sono io Dove hanno fatto tutto Il disastro Ok 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 Ci sta credendo Adesso lo chiamo Baby Baby Vieni vieni corri Ho visto qualcuno Corri 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 Ho visto qualcuno Ho visto qualcuno Lì Marco Non so cosa fare Non c'è sì Stai combinando Niente Ti hai detto di filmare Tu no Sta filmando Ti hai detto di filmare No Cosa c'è Che la ride Ma perché la ride Sai com'è fatta Marco hai chiamato la polizia Ci hai chiuso Il negozio E chiama la polizia Allora Ci chiama la polizia Ma State facendo stupidaggini No no Hai detto Luca Di filmare Sto filmando Sì ma quella ride Ma perché sto guardando I cartoni Ma stai guardando I cartoni Lisa tu Sì stai guardando I cartoni Allora No è una c***a Ma che c***a Guarda Ma secondo te Cioè Io mi metto qui A buttare giù Tutto così Allora Dai Chiama Muoviti Dai 112 Chiama Dai Io preferivo chiamare Il cellulare Della FIGO MAPI Ero uno scherzo Guarda che pelle d'oca Ma stai scherzando Ma guarda che pelle d'oca Che ho Stai chiamando Ma stai Stavo chiamando La polizia Ma certo che stavo Chiamando la polizia Ma è logico Ma scusa Ma perché Dovevo chiamare La polizia Ma Ma sei normale Ma non sono scherzi Da fare Questi qua Ma dai Ma c***o Eh però Il tuo computer Non lo c'è davvero È più che altro Per il mio computer E non so dove Nella cassaforte Non c'è Ma non c'è un c***o In c***o Comunque Ti ricordo Che tuo figlio Stava già filmato Prima Che tu li diciassi Di filmare E manco Te li sei accorto Ti ho mai visto In che stato Che mi hai fatto Arrivare Ho visto Hai visto Come sono facciudato Sì ho visto Hai fatto fare 200 C'è Semafero rosso C'è un incidente C'è uno con la pagina A bassa e sinistra Tutti oggi Dai Anche te Cercetti scherzi Non si fanno Ma che c***o di scherzi Dov'è mio computer Non so Non so dove Dov'è Lisa Non c'è La voce della verità Non voi siete fuori Dite Io devo fare una doccia Sono sciudato Due docce Io sono sciudato Veramente È una roba Comunque Ti stanno guardando tutti Tutti Ti stanno guardando Ti stanno guardando Da lì E anche da lì Ciao E anche da lì Anche da lì Anche da lì E anche da lì E anche da lì E anche da lì Non sono scherzi da fare Dai Caspita Colpa sua Colpa tua 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 Di tutti E anche di Lucas Mi avete convinzionato voi comunque Lo so Bene ragazzi Questo prank Durissimo Questo qua era pesantissimo Potentissimo Vi sei piaciuto Mettete un bel pollicione in su Sì Giù ragazzi Su su Segurici Sui nostri profili Instagram che trovate qua sull'iscrizione LucasGinWeb Che gaffivo Zanotti Trattino a basso lisa Marco punto Zanotti Questo sì No Non seguito Certo poverino Guardate che cosa mi hanno trattato Ci siamo voluti vendicare per lo scherzo che hai fatto a Luca Ma non si fanno questi scherzi ragazzi No si fanno appunto gli scherzi a Luca Si fanno a te gli scherzi E tu non dici niente Io Lui sta filmando Sto filmando Di solito i registi non filmano I registi non filmano No aspetta I registi non parlano Ma ecco Dai Ciao ragazzi Ci vediamo in un altro video E Ciao 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 Ciao